Musica Torna l'allarme dei cani che si aggirano da diverse settimane tra i quartieri di Campo dell'Oro e San Gordiano. Domenica mattina l'ultima aggressione ai danni di un'anziana di 85 anni. Droga, atti osceni e vandalismo. È la situazione che si verifica tutti i fine settimana al ghetto e che viene denunciata a gran voce dai commercianti della zona e dai residenti. Notizia impropriamente divulgata, così il presidente del Consiglio d'Istituto, l'Avvocato Davide Capitani, sul congetto mestruale concesso alle studentesse del liceo classico, Gugliel Motti. Per la celebrazione della Giornata dei Giusti, la comunità di Sant'Egidio e la Fondazione Carici vanno svelato alcune targhe presso gli orti solidali di Villa Albani. La ginnasta della SG in Manila Esposito è stata premiata anche a Palazzo del Pincio dal sindaco tedesco, il grazie dell'amministrazione per le medaglie alla Coppa del Mondo. Buonasera dal nostro telegiornale, torna l'allarme cani pericolosi nei quartieri di Campo dell'Oro e San Gordiano. Domenica scorsa un 85enne cipiravecchiese è stata assalita dai due pastori maremani che da alcune settimane si aggirano nella zona creando il panico tra i passanti. La donna che sarà soccorsa da un'automobilista di passaggio è condotta al pronto soccorso del San Paolo a sporto denuncia il servizio. È dovuta ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale San Paolo e si trova tuttora in stato di shock una donna civitavecchiese di 85 anni che domenica scorsa ha dovuto subire l'aggressione di due cani pastore di colore bianco nei pressi di via Veneto al confine tra i quartieri di Campo dell'Oro e San Gordiano. La donna stava camminando sul marciapiedi quando è stata circondata da due animali che hanno iniziato ad abbagliarle contro. L'azione dei due pastori si è fatta sempre più incalzante, la donna è caduta rovinosamente a terra. Un'automobilista di passaggio che aveva avuto modo di assistere alla scena si è fermato e dopo aver allontanato i due cani ha accompagnato l'anziana al pronto soccorso del San Paolo dove è stata dimessa con una prognosi di pochi giorni per una forte contusione a un braccio. Successivamente a sporto denuncia i carabinieri. Torna quindi l'allarme nei popolosi quartieri che si trovano nella zona sud di Civitavecchia per la presenza dei due grossi animali che già nelle scorse settimane avevano destato spavento tra i residenti. Nella vicenda, come si ricorderà, il TRC Giornale si era occupato il 14 febbraio scorso. Dopo le testimonianze l'allarme lanciato da alcuni abitanti della zona che avevano parlato del morso al polpaccio ai danni di una signora anche la costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del San Paolo, di un analogo episodio avvenuto ai danni di un uomo e di un altro paio di situazioni a rischio che avevano visto come vittime due donne. Proprio dopo il nostro articolo qualcosa sembrava essersi mosso e la situazione di pericolo sembrava fortunatamente rientrata. Evidentemente però le cose non stavano così. Alla luce di quanto è avvenuto domenica scorsa si può parlare di allarme ancora presente. Durante lo scorso weekend i carabinieri della compagnia di Civitavecchia hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a fronteggiare i fenomeni della cosiddetta malamovida nei comuni del litorale, in particolare a Civitavecchia, Cerveteri, Santa Marinella e Ladispoli. I militari della sezione radiomobile di Civitavecchia hanno anche segnalato all'ufficio territoriale del governo di Roma due ragazzi romani di 24 e un 32enne Civitavecchia si è trovati in possesso in totale di 10 grammi di hashish. I carabinieri della stazione di Santa Severa invece hanno denunciato al piede libero un 31enne romano che durante le fasi di identificazione li aveva minacciati e oltraggiati. Spaccio di droga, atti osceni e di vandalismo è la situazione che viene denunciata dai titolari delle attività che si trovano al ghetto proprio nel fine settimana scorso. A seguito degli ennesimi atti vandalici di distruzione di vasi, mastelli della differenziata, sedie di plastica e decorazioni di un locale appena inaugurato che aveva colorato la via con cuori e scritte è scoppiata la rabbia dei titolari che parlano di situazione fuori controllo anche per quello che riguarda l'uso e la vendita di droga. Sentiamo. Siamo al ghetto, giornata tranquilla, però nel fine settimana questa tranquillità non c'è. Che succede nel weekend? Succede che il ghetto diventa terra di nessuno. Io personalmente cerco di chiudere la mia attività entro le 11 per non incorrere nella follia dei ragazzi che stanno qui al ghetto. Il fine settimana appena trascorso sono stata aperta sino alle 2 perché avevo un evento eccetera. È stata allucinante. Non c'è rispetto per gli arredi, per le persone, per nessuno. Anche qui dietro la caserma della Guardia di Finanza, per cui in maniera irrispettosa anche davanti alle autorità. Non c'è proprio modo, non si può descrivere. Bisognerebbe secondo me chiedere ai genitori dei 15-16 di trascorrere una nottata qui al ghetto. Un venerdì, un sabato. E vi rendete conto di chi sono i vostri figli? Noi rimaniamo, il sabato sera ormai è fisso, rimaniamo a controllare che non facciano danno alle nostre cose. Poi quello che magari deve smettere comunque di lavorare e andare a casa, si trova il danno come Sirio è successo sabato sera, ha dovuto riparare i suoi tavoli di marmo. Tutti noi stiamo facendo sempre i conti la domenica mattina con danni, ma poi io sono rimasto qua questo sabato a cercare di parlare con loro. Alla fine, a forza di reterguirli, è capitato pure la coppia di scalmanati che hanno rotto una bottiglia e hanno detto via qui se c'è il coraggio. Io sono 60 anni, mi devo mettere con 15 anni, che c'è una bottiglia a mano. È un po' antipatica questa cosa. Soprattutto noi cerchiamo i genitori anche perché non puoi parlare con loro, con loro non accettano né il discorso né il dialogo, sono solo parolacce, bestemmie, che vuoi, ma chi te conosce, non mi riprende col telefonino che sono minore, a pedofilo, cioè stiamo a livelli proprio non mi puoi riprendere, cosa che non è vero perché se tu fai un reato io ti posso riprendere, non posso diffondere le immagini, ma ti riprendo e ti faccio vedere le forze dell'ordine. Però i genitori danno sempre comunque ragione ai figli, le forze dell'ordine ci hanno le mani legate. Da mezzanotte in poi non è più un luogo destinato alle famiglie e noi abbiamo lavorato in questo senso per anni per rendere vivibile il ghetto alle famiglie e noi vediamo tranquillamente personaggi che si aggirano e spacciano cocaina. Dietro la fontana, qui dietro c'è consumo quotidiano di qualsiasi tipo di droga, ma anche nel pomeriggio. Tutto questo viene accanto a Guardia di Finanza. Non so se qualcuno, se il sindaco vuole mettere mano, perché qui a questo punto è un problema del sindaco e autorità che si devono far sentire. Servono maggiori controlli? No, servono controlli che non ci stanno, non maggiori. Qui non ci stanno proprio i controlli, perché ci sono due locali, anzi tre, che danno da bere ai bambini, perché a 14 anni i vostri figli sono bambini, non so adulti, e quindi tutti i ragazzini di 14, 15, 16 anni si riversano la piazza perché sono gli unici locali che gli danno da bere. Quindi è facile, chiudi quei locali e vanno via, vanno da un'altra parte, con la speranza che da un'altra parte non gli danno da bere. È una semplicissima soluzione. E come detto, anche un altro locale in città ha subito le conseguenze degli atti vandalici che si sono registrati nello scorso fine settimana, non solo al Ghetto quindi, ma anche nei pressi di un locale di Via Istria, che proprio in occasione dell'inaugurazione del 3 marzo scorso aveva allestito degli striscioni per scattare dei selfie, ricreando un'atmosfera caratteristica di un vicolo napoletano. La stessa notte purtroppo gli striscioni sono stati divelti, sottratti e distrutti, distruggendo così l'allestimento creato per l'inaugurazione. Dopo aver attivato da mesi il sistema di videosorveglianza al Pirgo, è in corso il ripristino dell'area della Marina. Lo afferma il delegato alla Sicurezza e ai progetti di videosorveglianza Alessandro D'Amico, che spiega che l'amministrazione sta lavorando per il reperimento di fondi al fine di poter iniziare a breve l'installazione di videocamere e di ultima generazione nelle aree pedonali, proprio a partire dalla zona di Piazza Fratti e successivamente Piazza Saffi, ovvero le zone a più alta frequentazione serale e notturna, con il conseguente rischio di risse e vandalismo, come dimostra anche l'ultimo episodio che è avvenuto lo scorso weekend. È receduto nelle scorse ore il tenente colonnello Giancarlo Mori, ex comandante della Polizia Locale, per molti anni ha ricoperto questo ruolo ed era capo dei vigili urbani anche nel 1995, anno della possibile lacrimazione della Madonnina di Pantano. Mori era stato anche tra coloro che aveva assistito ai fatti, tanto da finire sulle colonne dei giornali nazionali. I funerali si svolgeranno giovedì alle 15 alla chiesa dei Salesiani. Cambiamo argomento, non c'è pace. Al liceo classico Guglielmotti di Civitavecchia, il recente e innovativo provvedimento assunto dal Consiglio d'Istituto in merito alla concessione alle studentesse del congedo mestruale diventa motivo di divisione tra lo stesso Consiglio d'Istituto e la rete degli studenti medi che nei giorni scorsi avevano anticipato la notizia esprimendo tutta la loro soddisfazione e il servizio. Diventa un caso il congedo mestruale per le studentesse del liceo classico Guglielmotti di Civitavecchia, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio d'Istituto. Il presidente dello stesso Consiglio, l'Avvocato Davide Capitani, da una parte esprime la sua soddisfazione per l'approvazione all'unanimità del provvedimento emesso in favore di quelle studentesse che possano avere complicanze di natura patologica certificate legate al ciclo mestruale, ma da un'altra stigmatizza la fuga in avanti condotta a riguardo dalla rete degli studenti medi. L'Avvocato Capitani sottolinea che la delibera adottata in un momento di grande sofferenza per l'Istituto restituisce un'immagine certamente positiva e all'avanguardia per quelli che sono i temi dei diritti civili e di rispetto di genere della nostra società, essendo il Guglielmotti il secondo nel Lazio ad aver introdotto la misura che consentirà alle ragazze di produrre un certificato medico una volta all'anno per poter beneficiare fino a due giorni al mese di assenza giustificata dalle elezioni. Precisa però alla luce dei commenti entusiastici rilasciati dalla rete degli studenti medi, quasi a rivendicare paternità politico-scolastiche o comunque meriti nell'iter di approvazione, che il Movimento nulla ha fatto per promuovere l'approvazione della delibera in parola. Non si è fatto promotore del suo inserimento nei punti all'ordine del giorno, né si è speso in forme particolari per farla approvare. Per amor di verità, aggiunge il Presidente del Consiglio di Istituto del Guglielmotti, il congedo mestruale è stato voluto direttamente dal sottoscritto ed è stato immediatamente condiviso da tutto il Consiglio di Istituto, preside e docenti in primis. Anzi, al fine di esaltare tale condivisione, il Consiglio ha espressamente chiesto a tutti i suoi componenti di evitare qualunque tipo di fuga in avanti con commenti di parte e o ipotetiche rivendicazioni e di attendere viceversa il comunicato che avrebbe fatto il Presidente del Consiglio di Istituto. A questo punto, conclude l'Avvocato Capitani, essendo la notizia già impropriamente divulgata, esprimo al contempo grande soddisfazione per il provvedimento approvato e biasimo per chi lo ha impropriamente divulgato e commentato. La direzione aziendale dell'Asel Roma 4 e di rappresentanti delle sigle sindacali dell'area sanità nel corso dell'ultima riunione che si è tenuta a Via Terme di Traiano sono giunti alla sigla dell'accordo relativo al nuovo regolamento per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi dirigenziali dell'area sanità. Un documento importante che permetterà la valorizzazione delle risorse umane interne, la possibilità di conferire incarichi professionali di base anche ai dirigenti più giovani e un utilizzo più efficiente e puntuale del fondo di posizione. Sono molto soddisfatta, ha dichiarato il direttore generale dell'Asel Roma 4, Cristina Matranga. Questo accordo è l'esempio di come una buona collaborazione si può addivenire a soluzioni condivise che vanno nella direzione di valorizzare a pieno le risorse interne e di offrire anche ai più giovani prospettive di crescita e sviluppo professionale, nonché rendere più attrattiva. l'azienda. Al porto quest'anno finalmente qualcosa si è mosso. Lo sottolinea l'Agilo, l'associazione degli accompagnatori turistici che esprime soddisfazione per come il suo invio ai tour operator di un tariffario concordato con i lavoratori dell'apporto sulla scia di quelli esistenti ed applicati da anni in altre realtà croceristiche italiane ha definitivamente smosso la melma in cui i compensi erano impantanati. Un'iniziativa, sottolinea la presidente di Agilo Paola Di Giovanni che ha determinato risposte diverse ma che ha comunque determinato complessivamente un aumento delle tariffe. Di certo prosegue Agilo, i tour operator che gestiscono le navi a Civitavecchia come a Genova per le compagnie croceristiche hanno cominciato a capire che non si può pagare uno stesso servizio qui a 120 e lì a 220 euro approfittando della necessità che hanno le persone di dover lavorare per sopravvivere. Agilo esprime quindi la sua solidarietà agli accompagnatori di Civitavecchia vittime di questo sistema di sfruttamento condito di abusivismo caloppante denunciato più volte dall'associazione e dal sindacato USB e reso noto anche alle autorità competenti in apporto. L'associazione esprime solidarietà anche agli stessi dipendenti dei tour operator mandati a comunicare tariffe bassissime e a richiedere disponibilità con mail anonimi con cui inviano tariffari persino per gli accompagnatori senza patentino categoria inesistente e contro la legge. Sulla 12 Roma Civitavecchia per consentire i lavori di riqualifica delle barriere bordo-ponte laterali del viadotto Sorbo e su Fosso Infernaccio dalle 22 di domani alle 6 di giovedì sarà chiuso il tratto tra Civitavecchia Nord e Civitavecchia Sud verso Roma. In alternativa si consigliano diversi itinerari per i veicoli leggeri e i mezzi pesanti con massa pieno carico fino a 5 tonnellate dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Civitavecchia Nord percorrere la statale Aurelia verso Roma con rientro sulla 12 alla stazione di Civitavecchia Sud per proseguire verso Roma per i mezzi pesanti con massa pieno carico superiore a 5 tonnellate per gli autobus uscire allo svincolo libero di Monte Romano sulla 12 Roma-Tarquina percorrere l'Aurelia Abisse e mettersi sulla superstrada 675 seguire le indicazioni per vetrarla e procedere sulla Cassia verso Roma. Tante iniziative per la giornata europea dei giusti si è tenuto presso Villa Albani che ospita alberi di olivo dedicati ai giusti dell'umanità un importante evento organizzato dalla comunità Sant'Egidio con il contributo della fondazione Caricib la partecipazione di Comune e CSP. Sono state svelate le targhe dedicate ai giusti su cui le scuole hanno lavorato fin dal mese di ottobre. Le interviste. Gabriella Sarracco, tante iniziative per la giornata dei giusti tra cui stamattina una bella partecipazione degli studenti e poi adesso saranno scoperte delle targhe. Sì, questa mattina presso la sala currato della fondazione ci sono stati tanti tanti giovani delle scuole superiori della nostra città accompagnati dai docenti che hanno proposto dei loro progetti il ricordo dei giusti. I giovani hanno dimostrato di aver ben compreso chi sono stati, chi sono e chi potranno essere i giusti perché in fondo potremmo essere tutti noi perché mettendosi dalla parte di chi ha bisogno, di chi soffre aiutandoli si è dei giusti. Molto bella la presentazione dell'importanza di un giardino e non di una lapide o di un manifesto perché un albero rappresenta la vita. L'abbiamo proprio promossa noi con la comunità di Sant'Egidio e con Garivo, la fondazione internazionale che segue la tematica dei giusti in Italia e in Europa. È già il secondo anno di questa iniziativa e oggi, come tu hai ricordato, scopriremo delle targhe dedicate a sette giusti che sono la Rosa Bianca, Ettore Barzini, Berta Caceres, Peppino e Felice Impastato, Daniela Pompei e Carlo Urbani. E Segna Karamecic. Siamo molto felici perché questo è un lavoro corale delle scuole che coinvolge tutti gli istituti superiori per molti mesi. Quanto è importante portare avanti questa giornata dei giusti anche qui a Civitavecchia? Direi che è fondamentale perché viviamo in un tempo in cui il male agisce attraverso molteplici forme. Prima di tutto voglio pensare alla guerra che non è soltanto quella dell'Ucraina che ci minaccia più da vicino ma le tante guerre dimenticate, che sono circa 30 in tutto il mondo. Allora i giusti sono coloro di cui noi abbiamo bisogno oggi. I giusti sono coloro che non vivono per se stessi, per salvare la loro vita, per i propri interessi, ma in un certo senso vivono per salvare gli altri e per gli altri. Quanto è importante portare avanti un'iniziativa di questo tipo proprio per i giusti? È importante il fatto di coinvolgere i ragazzi, i giovani, non farla sentire come una cosa rituale che appunto tutti gli anni si ripete, ma appunto come in questo caso qui a Civitavecchia, far lavorare sui giusti, far raccontare queste storie a loro in modo che loro si sentano più coinvolti e più anche possono essersi più partecipati di questa vicenda. Il giardino è qualcosa che ci insegna a tutti appunto che bisogna avere sempre fiducia nelle possibilità che le persone possano trovare dentro di sé le motivazioni per dare ascolto alla coscienza e aiutarle appunto a salvare gli altri, a combattere il male. Un San Romolo 2023 che saprà stupire con questa frase degli organizzatori della manifestazione che era al luogo al Teatro Traiano il prossimo 18 marzo hanno annunciato chi saranno gli ospiti di eccezione di quella serata che, come sempre, avrà risvolti benefici oltre quelli musicali. A salire sul palco cittadino saranno i gialisse conosciuti per aver vinto partendo senza nessuno con i favori del pronostico il Festival di Sanremo del 1997 con il brano Fiumi di Parole. Negli ultimi anni il duo è stato molto sulla crescita dell'onda per aver provato ogni anno a partecipare nuovamente alla rassegna Canora sulla Riviera Ligure. La consulta delle donne di Civitavecchia celebra la giornata internazionale della donna l'11 marzo presso il Tè Lucia di Vesonso con lo spettacolo sul tema della caccia alle streghe. Un escursus dall'Europa del XIV secolo fino all'Italia dei giorni nostri passando per l'Afghanistan e l'Iran. La consulta, che opera sul territorio dal 1988, è lieta di invitare tutta la popolazione all'evento. Una presenza preziosa quella dei cittadini e delle cittadine per poter riflettere sulle condizioni della donna e per cercare insieme adeguate soluzioni. Domani gli inviati di Le Casellanti, programma di Rai Soradio, ideato e condotto da Ivan Cardia che promuove i territori, farà tappa a Civitavecchia in onda ogni giorno, tranne sabato e domenica. Le Casellanti è nato per valorizzare i territori attraverso la voce della gente che vive la quotidianità dei luoghi, cultura, radici, tradizioni, dialetti eccellenze enogastronomiche e altro ancora, sono oggetto di chiacchierate e racconti informali. Per chi ha voglia di parlare della sua Civitavecchia, l'appuntamento è per domani alle 11 al Caffè del Corso, in Corso Centocelle. Termina qui la prima parte del nostro telegiornale, torniamo tra poco con la pagina sportiva. Ginnastica artistica, premiazione speciale ieri al Comune per Manila Esposito, la ginnasta della SGN Civitavecchia e della Nazionale Italiana che ha vinto due metaglie alla tappa di Coppa del Mondo Germania. La ginnasta è stata ricevuta dal sindaco Ernesto Redesco, dal delegato allo sport Matteo Iacomelli, dalla presidente del Consiglio Comunale Emanuele Amari e dal consigliere comunale della città metropolitana Antonio Giammusso. Oltre a loro, una vasta rappresentanza della SGN, dal presidente per Luigi Miranda, ai coach Camilla Ugolini e Marco Massara, fino a compagne di squadra e semplici sostenitori. Tedesco ha consegnato una targa omaggio all'esposito, visibilmente emozionata per i riflettori puntati tutti su di lei per i tanti successi. ottenuti le interviste. Siamo tutti insieme e tutta la città che te la consegna con il grande orgoglio di averti qui e con il grande ringraziamento per quello che hai fatto e per la soddisfazione che hai dato a tutta la città. un'emozione speciale questa mattina qui al Comune con Manina Esposito che ha vinto due medaglie importanti alla Coppa del Mondo. Quindi che effetto fa essere ricevuta dal sindaco, dal delegato e dall'amministrazione comunale? È un'emozione bellissima comunque essere apprezzata, comunque partecipe di questo posto. È stato molto bello perché poi viene riconosciuto tutto il lavoro che hai fatto, tutti i sacrifici che hai impiegato in questi mesi e peraltro insomma si riduce anche dal primo posto importante nella gara sulla trave per quanto riguarda la Serie A1 quindi insomma è importantissimo quello che stai facendo. Sì, comunque alla fine tutti i sacrifici portano ad un risultato quindi per fortuna è stato un buonissimo risultato quindi sono stati utili questi sacrifici fatti. delegato quindi è importante questo successo di parte di Manila quindi è una premiazione speciale per rendere omaggio a tutto quello che fa la SG. Beh, è un risultato enorme, campione del mondo poi chiaramente anche un argento ma un movimento sportivo come hai detto te, la SG che è veramente un nostro fiore all'occhiello, un orgoglio di questa città. Manila in questo momento rappresenta l'apice ma era giusto che oggi insomma venisse celebrato e ricordato a tutta quanta la SG i collaboratori, allenatori, il presidente Miranda e a dire alla città come questa associazione sportiva è veramente fiorera di campioni e soprattutto di disciplina sportiva e questa è la cosa più importante che abbiamo chiesto anche insomma a Manila e a tutti i ragazzi presenti di continuare a insegnare che con il sacrificio si possono ottenere risultati. C'è quindi una presenza importante con Manila che sta raggiungendo risultati molto importanti in nazionale anche con tutte le ragazze che se ne erano con lei e quindi insomma è davvero bello far vedere tutto il mondo a SG qui a Comune. Sì, siamo contenti Manila è l'apice ma insomma dietro c'è tutto un mondo sia dietro il suo risultato che è quello che si vede ma sotto c'è un mondo appunto come abbiamo detto di sacrifici di lavoro da parte sua in primis e poi da parte di tutti quanti. È un bel gruppo dietro Manila ci sono altri giovani che stanno lavorando Manila è un esempio a 360 gradi sia ginnico che umano per tutte le nostre ginnaste. Pugilato due pugili che hanno fatto emozionare i civili avvicchiesi e non solo uniscono le forze Cristian Gasparri entra a far parte della Magnesi Boxing Team naturalmente con l'obiettivo di raggiungere i più luminosi traguardi il ragazzo originario di Tarquinia sarà seguito dalla manager Alessandra Branco e dal procuratore Davide Bianchi nel 2022 Gasparri ha vinto e ha prima vinto e poi difeso il titolo mondiale giovanile IBO dei pesi super più ma sotto la cura di Davide Buccioni. Palla a nuoto prima della gara tra Nautilus e Accademia come annunciato nei giorni precedenti si è tenuta la prima azione di tre arbitri internazionali legati a Civitavecchia momento fortemente voluto dalla società Verde Azzurro ed organizzato in collaborazione con Civitavecchia c'è memoria storica sportiva locale e insostituibile e al suo presidente Roberto Melchiorri premiati i tre arbitri Sandro Ferri Filiberto Renato Di Gennaro e ad Alberto Capuagna la presenza del sindaco Ernesto Ridesco del delegato allo sport Matteo Iacomelli del presidente del comitato regionale Giampiero Mauretti e delle famiglie Ferri e Di Gennaro chiudiamo con la carate Civitavecchiese il terzo posto dei regionali di Catà categoria senior cinture marroni nere femminili Cristina Prudente della Stella Porale conquista il podio nella top di categoria la gara si è svolta al Palatorrino di Roma l'atleta cintura nera Filcam allenata presso l'impianto sportivo VIP Club in largo giocondo dei Dominicis dal maestro Enrico Bruno ha dimostrato di avere la stoffa per puntare a risultati sempre più importanti in gara ha migliorato notevolmente le sue performance acquisendo fiducia e consapevolezza nei propri mezzi qualità che le consentono di conquistare la medaglia di bronzo ottimo risultato considerata la sua pochissima esperienza nelle competizioni il podio le permette la qualificazione al campionato nazionale che si terrà il 4 di giugno a Chianciano Terme Bene, era questa l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale prima di lasciarvi vi ricordo di seguirci anche sui nostri canali social facebook, youtube, instagram oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it grazie ancora per l'attenzione e buon proseguimento di serata www.trcgiornale.it www.trcgiornale.it